Istituto Geriatrico Camillo Golgi L'ingresso principale dell'Istituto Camillo Golgi di Abbiate Grasso si affaccia su Corso San Martino e la piccola piazza che si trova di fronte ad esso ha preso in anni recenti il nome del Premio Nobel a cui l'Istituto è dedicato e di cui racconteremo in seguito. Disponiamoci quindi in questo slargo e ascoltiamo la storia dell'edificio. L'edificio che ospita l'Istituto Golgi ha una storia molto articolata che si può in maniera sintetica riassumere in tre fasi principali quella in cui venne fondato il monastero di San Martino la fase successiva in cui quest'ultimo venne trasformato nel monastero di Santa Chiara e infine l'ultimo periodo in cui l'edificio cambia drasticamente la sua funzione per essere trasformato in una struttura di ricovero per bisognosi. Il monastero di San Martino venne fondato alla fine del XII secolo per volontà dei monaci cistercensi di Morimondo. Tra il 1134 e il 1136 sorsero infatti nei territori a sud di Milano due monasteri filiazioni di omonime abbazie d'Oltralpe, Chiaravalle e Morimondo. Lo stanziamento dei monaci a Morimondo comportò uno sviluppo sociale ed economico notevole anche per il borgo di Abbiate e l'influenza spirituale suscitata dal monastero diede origine alla fondazione del più antico monastero femminile della città, quello di San Martino. Menzionato per la prima volta in un documento del 1218, già nello stesso secolo l'arcivescovo di Milano concedeva a quest'ultimo il diritto di castellanza. Quest'ultimo comportava la riscossione da parte delle monache di una tassa che ogni famiglia abbiatense pagava al monastero, utilizzata per la manutenzione delle mura del castello e del borgo. Il monastero di San Martino possedeva anche svariati immobili, tra cui due mulini e molti terreni, che nel XIII secolo lo resero il più importante proprietario fondiario del borgo. Alla metà del XV secolo i territori lombardi conobbero una diffusione importante degli insediamenti francescani legati al movimento dell'osservanza. Tutto ciò grazie anche alla predicazione di un'importante figura legata a tale movimento, quella di San Bernardino da Siena. Nel 1469 la fondazione del convento dell'Annunciata da parte di Galeazzo Maria Sforza, la cui costruzione era stata proprio affidata ai frati dell'osservanza, ebbe come conseguenza, tre anni dopo, l'arrivo del corrispettivo femminile di tale convento, mediante intervento ducale. Fu infatti la consorte di Galeazzo Maria, Bona di Savoia, ad inviare richiesta al Papa per sostituire le monache cistercensi, che sino ad allora avevano abitato il convento di San Martino, con 40 monache clarisse provenienti da Crema. A motivazione di tale sostituzione furono presi a pretesto i comportamenti scandalosi delle Benedettine. Papa Sisto IV accolse la richiesta, e nel 1478 il monastero di San Martino mutò il suo nome in quello di Santa Chiara, in onore della fondatrice dell'Ordine delle Clarisse. L'arrivo delle nuove monache comportò una ristrutturazione del monastero, e la realizzazione della doppia chiesa di Santa Chiara, con una parte destinata ai fedeli e un'altra riservata alle sole monache. Il monastero, invece, consisteva in una costruzione lineare che si sviluppava perpendicolarmente all'edificio ecclesiastico, e ospitava, oltre al dormitorio, vari locali di servizio ad uso delle monache, fra cui vi erano anche un'infermeria, le cantine e un torchio. Nei secoli il monastero non fece che incrementare i suoi possedimenti, sino a quando, con il passaggio dei territori lombardi all'impero asburgico e la salita al trono imperiale di Giuseppe II, non venne soppresso per diretto volere dello stesso sovrano. L'abolizione delle corporazioni religiose aveva già avuto inizio sotto il regno di sua madre Maria Teresa e venne proseguita con maggior vigore dallo stesso Giuseppe, il quale nel 1782 decise di trasformare l'ex monastero di Santa Chiara in una struttura di ricovero per gli incurabili di tutta la Lombardia. La riconversione della struttura venne affidata ad un discepolo di Giuseppe Piermarini, che si era già distinto per la progettazione di svariati edifici della milanosburgica, Leopold Pollack. Costui elaborò un progetto semplice ma funzionale, mantenendo la struttura già esistente con la grande corte rettangolare detta del Pozzo, a cui affiancarne un'altra identica con le stesse dimensioni. I nuovi edifici erano destinati ad ospitare svariate centinaia di posti letto e i lavori ebbero inizio nel febbraio del 1786 per terminare nell'estate dell'anno successivo. Nell'arco di pochi anni, la neo fondata Pia Casa degli Incurabili vide arrivare gente proveniente da tutto il territorio lombardo. Si provvide ad avviare un piano disciplinare ed economico col quale organizzare l'attività del nosocomio, che iniziò con l'introduzione di lavori manuali per i degenti, che in questo modo contribuivano al mantenimento della struttura. L'avvio della produzione degli stuzzicadenti all'interno della struttura renderà famosa a Biategrasso come El Paes di Steck. Nell'Ottocento, il progetto d'ampliamento realizzato da Lorenzo Carmagnola prolungò verso ovest la costruzione, rialzando quella già esistente di un piano, ma questi lavori furono interrotti a causa della mancanza di fondi. Nel 1871, i lavori d'ampliamento proseguirono, questa volta ad opera dell'architetto Giuseppe Balzaretto, che ingrandì ancora una volta la struttura verso ovest, creando anche un nuovo ingresso sulla strada, aperta sul tracciato dell'ex fossato del castello, l'attuale Viale Serafino dell'Uomo. Punto di riferimento dell'opera di Balzaretto fu la chiesa di San Carlo. A pianta centrale, possiede un corpo a doppia altezza, in modo da permettere ai degenti ospitati nei padiglioni al primo piano, di assistere alle funzioni liturgiche. Al centro dell'edificio, l'altare sopraelevato, ospita sotto di esso la sacrestia. L'interno dell'edificio, possiede svariati dipinti provenienti dalla precedente chiesa di Santa Chiara, e da altre chiese scomparse di Abbiategrasso. Ora, entriamo dall'ingresso principale che si trova di fronte a noi, e imbocchiamo il portico che si trova alla nostra sinistra. Percorriamolo sino in fondo, poi svolteremo a destra per arrivare al cortile del Pozzo. Ora, metti in pausa il filmato e posizionati nel punto appena indicato. Il cortile detto del Pozzo, conserva tracce del portico del Monastero delle Clarisse, mentre poco o nulla resta della chiesa conventuale. La Pia Casa degli Incurabili, fondata da Giuseppe II, cambiò il suo nome nel 1966, trasformandolo in Istituto Geriatrico Camillo Golgi, in onore dell'insigna anatomo patologo, che fu primario della struttura alla fine dell'Ottocento. Lo scienziato d'origine bresciana qui mise appunto la sua reazione nera, tecnica che permise di colorare selettivamente le cellule nervose e la loro struttura, e che gli valse il premio Nobel nel 1906. All'interno dell'Istituto è ancora visitabile la Sala Golgiana, con un'importante raccolta di strumenti medico-chirurgici risalenti al XIX secolo. A prosecuzione dell'attività di Camillo Golgi, l'Istituto Geriatrico è stato dotato nel 1999 di un nuovo padiglione destinato alla riabilitazione geriatrica e alla cura del morbo di Alzheimer. Per la descrizione della Sala Golgiana, da effettuarsi solo su prenotazione, e per quella della Chiesa, si rimanda alle relative schede.